Dopo un viaggio di 3.000 blocchi, forse il nostro eroe, l'Ulissa ai tempi moderni, tornerà. Insomma arriva a Torna, vai, se ce la fai. Zombiamo un po', lo vediamo in lontananza. Un piccolo puntino. Eccolo qui, è tornato ad Itaca. Itaca! Sta orlando Itaca, Itaca. Eccolo lì. Salve. I grandi tesori di Itaca. Vediamoli, troppa, troppa. Troppa tutta. Ueeh, 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 ueeh. Non è finito. E basta, basta. I tesori, i tesori dei sette mari. e vi. Non è finito.